Ben ritrovati su canali il vino alcalice, il vino con semplicità ma nel modo giusto. Sono Gigi, sono un sommelier e in questo video parleremo del rapporto tra il vino, le vigne e le rose, per fare bella figura ma senza esagerare. Spesso all'inizio dei filari dei vitigni possiamo vedere delle piante di rose. Nel canale non avevo ancora affrontato questa particolarità perché la davo un po' per scontata ma in molti a tutt'oggi si chiedono a cosa servono quelle rose alla testa dei filari delle vigne. Prima di scoprirlo, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale il vino alcalice attraverso il pulsante iscriviti, per voi è un secondo a costo zero, per me è un incentivo a continuare nel mio progetto di divulgazione. Dunque, torniamo alle nostre rose che spesso in molte parti dell'Italia e non solo dell'Italia vediamo ancora piantate in testa i filari. La coltivazione delle rose nei vigneti risale all'antichità. Gli antichi infatti avevano compreso che la rosa può essere considerata una pianta spia, una pianta cioè in grado di segnalare in anticipo varie problematiche in grado di influire sia in termini di carenze del terreno che di agenti nocivi esterni l'influenza negativa sulla propria salute. Pensate che la rosa, a causa della sua minor quantità di difese, manifesta prima rispetto al filare, e come prima intendiamo circa una settimana prima, i sintomi di eventuali attacchi di patologie fitopatiche o la presenza di parassiti, oltre che eventuali carenze minerali derivanti dal terreno. In questo modo, grazie all'osservazione delle piante di rose, il viticoltore poteva predisporre per tempo un intervento sulla vigna, quindi con un anticipo di almeno una settimana. Soprattutto in Francia, la rosa, oltre che a predire le malattie per le viti, serviva anche a segnalare la fine dei filari e i carri, in modo da preservare le colture da danni legati alle manovre effettuate con i cavalli. Se notate, ho usato dei verbi al passato, infatti la domanda da porsi è ma le rose hanno ancora oggi questa utilità, un'utilità così pregnante dal punto di vista preventivo? In realtà, se parliamo di aspetti produttivi di un certo spessore e di una certa importanza, la risposta è no. I passi in avanti fatti a punto di vista tecnologico e dalle tecniche di coltivazione permettono infatti di sostituire le rose nella prevenzione delle problematiche che possono interessare la vite. Le problematiche invece, che prima venivano segnalate dalle rose e oggi dalle nuove tecnologie, in alcuni casi ancora dalle rose, sono sempre le stesse. I nemici si chiamano di fatto oidio, detto anche malbianco, quindi malattia fungina che si presenta come un pulviscolo biancastro che va a decolorare la foglia. La muffa grigia, detta anche botrite, e non parliamo di quella nobile, una malattia che porta al marciume del grappolo. Abbiamo poi il marciume radicale lanoso, un fungo che attacca le vigne deboli, portando a necrosi e che ricopre la pianta con una reticolatura lanosa biancastra. Abbiamo poi il tumore radicale batterico, c'è una malattia provocata da un batterio che attacca in maniera aggressiva le radici e i tralci della pianta, manifestandosi con degli evidenti ingrossamenti del tronco. Abbiamo poi altra patologia che una volta la rosa permetteva di scoprire prima rispetto alla vite, che sono i parassiti, e la metcalfa, cioè un insetto molto dannoso che va a colonizzare i grappoli d'uva ricoprendoli con le sue secrezioni. Detto ciò, le rose lunghi filari, anche al giorno d'oggi, pur con le tecnologie che abbiamo a disposizione, hanno una loro utilità. Portano per esempio dei benefici ecologici, in quanto attraggono una varietà di insetti benefici, come api e cucinelle, che aiutano a mantenere l'equilibrio ecologico nel vignetto. Le api, ad esempio, sono fondamentali per l'impollinazione, mentre le cucinelle si nutrono di affidi e altri parassiti che sono dannosi per le viti. Questo approccio naturale alla gestione dei parassiti riduce la necessità di pesticidi chimici e promuove così una viticoltura più sostenibile. Le radici delle rose poi aiutano anche a migliorare la struttura del suolo, favorendo una migliore areazione e un miglior drenaggio. Questo è particolarmente utile in terreni compatti e argillosi, dove un buon drenaggio è essenziale per la salute delle viti. Inoltre, le rose possono contribuire a prevenire l'erosione del suolo, mantenendo la stabilità del terreno intorno alle viti. Non possiamo infine ignorare l'aspetto estetico delle rose nei vignetti. Le rose aggiungono un tocco di bellezza e colore, creando un ambiente piacevole sia per i viticoltori che per i visitatori. La bellezza, a sua volta, può avere un impatto positivo sull'anoturismo e attira anche più visitatori. Come sempre, se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un like, cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati rispetto alle prossime uscite e nel frattempo alla salute.